Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco Siamo su Dissidia, Final Fantasy per omnia versione giapponese Oggi si pulla per Kelgar Da Final Fantasy 5, ne abbiamo parlato ieri nella Ope Ope E' un personaggio di cui a me effettivamente interessa il kit E' uno, chiamiamolo, pseudo counter con attacco preventivo e counter Quindi possiede praticamente tutto ciò che possa in un qualche modo Interessarmi per i team counter che non sono affatto male E quindi lo voglio pullare Lo voglio assolutamente pullare E abbiamo i due banner con Free Multi Il suo è quello con Machina Che è il personaggio che per l'appunto lo accompagna in questo evento E poi abbiamo i famosissimi 3 Multi Ticket Che abbiamo preso con il completamento della Six Warrior Quest Con Cutter la scorsa volta Ovviamente io non ho fatto live, non ho fatto niente Quindi ho messo insieme sia i pull che la Six Warrior Quest Proprio perché ho recuperato tutto il contenuto in un pacchetto solo Oggi probabilmente, stasera probabilmente andremo in live su Twitch Per fare il Lost Chapter di Kelgar Non ne sono ancora sicuro Però intanto di pullare pulliamo Anche perché poi devo maxare il personaggio Quindi perderò sicuramente un po' di tempo E quindi preferisco farlo adesso Intanto rimettiamo anche l'audio perché l'avevo tolto E vediamo intanto la prima multi che succede In questo periodo in realtà Stavo lavoricchiando un paio di cose Non so se ancora ci lavorerò su Vediamo Non lo so Faccio Faccio al solito un paio di robe ma Ok Qui niente Abbiamo solo due 15 che non mi servono a niente Free ticket Magari la gioia del free ticket Ma non penso proprio Perfetto E quindi andiamo con l'altra multi Ok Una orb dorata che Mi sta bene Mi sta assolutamente bene Potrebbe essere un EX Potrebbe essere un LD Anzi Meglio un LD Perché magari la EX La posso anche comprare con i tokens Mentre le LD invece no Quindi già Mi porto un passo avanti Ecco Va bene 15 Ah LD di seed Che avevo già Quindi Però Abbiamo trovato la 15 Ed ecco qua Il nostro personaggio collegato Ovviamente Rank up Perché arriviamo direttamente A livello 70 Prendiamo qualche gem mozza E va bene così Qui Orba azzurra Che purtroppo Non c'è stato neanche un loading Quindi Avendo Sì Vabbè Avendo scaricato i dati Tecnicamente Dovrei avere meno loading Però Comunque sia Se si trova qualcosa Di Totalmente nuovo Il gioco Te lo fa capire Da un lato È stato un cambio rapido Che è la 35 Niente No Pensavo un cambio rapido Invece È stato Mi sono distratto Probabilmente Ok Secondo Ticket Altra orb Dorata Mi andrebbe bene Comunque Già anche Trovare L'LD Ad esempio Perché Non è Non è affatto male Non credo Non credo niente Di avere i token A disposizione Della BT Che potrei Effettivamente Avere quelli Ma Oh Attenzione Macchina Peccato Forse di macchina Che io comunque Già avevo Perché macchina Ce l'ho completo Quindi Purtroppo Non era Non era Il top Non era Il top In questo caso Macchina Bisognerà aspettarlo Perché macchina Forse Forse Se lo reworkano Bene Che gli fanno Rework Potrebbe diventare Molto interessante Madonna mia Sti ticket Sono andati Una schifezza Oggi Proprio totale Allora Ne abbiamo 865 Va bene Dai qualcuno Tiriamolo Giusto per Giusto per Per il content Per il meme Finchina Due dorate Di fila Oh Qua c'è stato Un piccolo Connecting Eh vabbè C'è due armi Dorate E la forza Di macchina Una dopo l'altra Con ticket Con ticket singoli C'è Mai successa Una roba simile Peccato che Non ci sia nulla Di interessante Oltre macchina Che Possiedo già Perché Macchina Lo possiedo già Allora Orb dorata La guardo Sinceramente Se non fosse Orb dorata Non la guarderei Cioè Skipperei E via Però Orb dorata Potrebbe essere Interessante Cioè Tra l'altro Ecco LD Perfetto Mi va benissimo Che magari La ex La si può Comprare Anche Dal token shop Beh diciamo Che qua comunque Almeno In questo caso Per me Tirare i ticket E' un po' Un errore Perché E' un personaggio Questo Che comunque A me interesserebbe Completo Di BT Se dobbiamo Dirla tutta Perché La BT E' quella Che effettivamente Rende giustizia Al personaggio Di Kelgar Permettendogli Di avere L'attacco Preventivo Due volte E aumentare Tutte le stats Quindi Diciamo che In teoria Io qua Devo andare Di gemme Specialmente Perché mi interessa La BT Non peraltro Non ho trovato Manco la force Tra l'altro Giusto per Sottolineare E neanche la ex Mi sa ancora Ho trovato Sottolineare 1535 Ed LD Del suo kit Ancora L'LD Di Cid Alta 35 Io ancora La sua ex Non l'ho trovata Un'alta 35 Allora Io vorrei vedere Un secondo Se era possibile Guardare i tokens Quanti tokens Abbiamo 35 Niente Impossibile Con i tokens Prendere la BT A questo punto A questo punto A questo punto Sì Dovrei andare Di gemme A questo punto Dovrei andare Di gemme Perché con i ticket Andarmi a cercare La BT Assolutamente Non ha senso Non ha assolutamente Senso Se poi Ovviamente Mi uscisse Subito Allora Avendo 800 Ticket E avendo Anche la prossima Summon Già annunciata Tra due Settimane Anzi Tra una settimana Praticamente Vado di ticket A cercare la force Non c'è problema La force La vado a cercare Con i ticket Belle Tutte queste LED Ma Non sono Ciò Che volevo Sinceramente Oh Grande 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 Il mio Cucciolone Grande Il mio Cucciolone Che è uscito Subito Ok 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 Allora La force Si cerca Quei ticket Col fatto Che c'è la Summon Praticamente Tra una settimana Anche se Spendo più ticket Me ne frego Perché tanto Sempre 400 Ticket Sono Quindi Va benissimo Bello Il triplo Cambio Bello Il triplo Cambio Guardalo Si Congratulato Burst Ok Bene 120 G Tokens Direi Che è andata Benissimo Direi che è andata Benissimo Vabbè Non li tocco Per ora Non li tocco Per i tokens Quindi ora L'unica cosa Che mi manca L'unica cosa Che mi manca Adesso Sono La force E E E la Ex Però la Ex Non è un grosso Problema Perché la Posso Trovare La posso Prendere Anche Con i tokens O i tokens Ex Messi da parte Apposta Quindi Si Però Tutte Orbi Blu Sinceramente Non mi stanno Piacendo Tutte Orbi Blu Di fila Mi stanno Un attimo Mi stanno Un attimo Triggerando Qua c'è Un piccolo Loading Ma Non ci credo Sono full Di inventario Sono full Di inventario E vabbè Niente Ci vediamo Tra poco Ok Abbiamo fatto Un po' Di spazio Andiamo A vedere Se Serve A qualcosa Aver fatto Questo Spazio Anche Perché Tra l'altro Col fatto Che arriva La summon Abbiamo Altri 400 Ticket In saccoccia Quindi Anche Scendere Sotto I 600 Ticket Non mi Spaventa Letteralmente Non mi Spaventa Perché So Di poterne Prendere 400 Quindi Ritornerei A cap Praticamente Quindi Va Benissimo Così Nel frattempo Ho controllato Le armi Ho Una BT Di Zack Da vendere In più Quindi Tecnicamente I miei token Sono Già 40 Sono 35 Sono Già 40 Quindi Non È Affatto Male Come Calcolo Non È Affatto Male Mi Servono Questi Ultimi 10 Token Che Sicuramente Prenderemo Con Un Un Outro Evento Che È E E E E Boh Riesco Riesco Ad avere Un prossimo Banner Senza Pensieri Così Se devo Prendere La BT Di un Determinato Personaggio La posso Prendere Subito Oh La Ex È Uscita Ottimo Ottimo Anche La Ex c'è va bene e a questo punto mi manca solo la forse a questo punto mi manca solo la forse quindi siamo siamo praticamente in là siamo siamo praticamente alla fine del nostro percorso manca solo la dannatissima forse sperando che comunque non faccia la birichina perché la forse birichina sinceramente eviterei eviterei decisamente allora e già siamo a 600 digit e già qui siamo nella zona diciamo cesarini se dovessimo utilizzare dei termini calcistici siamo nella zona cesarini perché se noi consideriamo i 600 digit più i 400 della summer sono mille ora però siamo scesi siamo già a 570 anche 60 queste orbe azzurre mamma mia che brutta da vedere almeno una volta c'erano le orbe grigie madonna mi sono riguardato mi sono riguardato vecchi video dove c'erano anche le orbe grigie era bello quando uscivano quelle orbe grigie che ti illudevano di qualcosa ti davano quella speranza grande con quell'orbe grigia cambiato tanto il gioco è cambiato veramente veramente tanto il gioco dall'inizio cambiato veramente veramente tanto e a volte si rimpiangono alcune alcuni passaggi si rimpiangono proprio infatti quella orbe argentata che ti spuntava che ti faceva illudere di di potersi trasformare in qualcosa di più da un lato era anche più bello era anche più bello pullare perché ora col fatto che ci sono soltanto ste orb così si c'è quella dorata che ti illude di poter trovare la forza ti illude di potersi trasformare però diciamo che adesso le forze le bt essendo così rare dai ticket non è la stessa cosa di trovare le ex che comunque le ex avevano una minima possibilità di essere più alte come percentuale dai però niente non mi sta uscendo sto forse allora in questo momento mi sta venendo in mente vain vain è probabilmente il mio personaggio più infame che mi ha fatto spendere oltre 500 tickets per trovare la sua fr ai tempi quindi qui siamo partiti da 865 ticket per cui vediamo se vediamo se viene battuto o se un'altra volta il mio difetto sapete qual è è che conservo almeno una copia di tutte le ld una copia di tutte le ex una copia di tutte le force quindi ho l'inventario che anche se al massimo della sua capacità purtroppo si riempie abbastanza in fretta perché siamo pur sempre che elgar è il 173esimo personaggio addirittura presente nel gioco quindi immaginatevi avere cinque armi per 173 personaggi e vi siete fatti il calcolo di quanti slot io effettivamente abbia pieni ovvio non non ho le armi di tutti perché mi mancano un paio di burst mi mancano quindi non ho le armi di tutti al cento per cento però quelle che sono 15 35 ex ld ormai le ho praticamente di tutti le ho letteralmente di tutti quindi diciamo è un po' un po' diverso il discorso allora intanto ci stiamo avvicinando alla soglia di vain eh mi ritengo scherzando ci stiamo avvicinando alla soglia di vain se non fosse per il fatto che c'è la summon settimana prossima tutti sti ticket probabilmente non glieli lancerei probabilmente non glieli lancerei ma col fatto che sti ticket devo necessariamente buttarli perché sennò poi mi restano mi restano appresso sinceramente mi da fastidio e poi tra l'altro non c'era neanche il sistema dei ticket per 10 cioè dovevi farli a 1 a 1 i ticket e quando avevi tanti ticket del genere farli a 1 a 1 era una cosa una cosa pazzesca allora e siamo a 400 ora a 300 quanto era? 365 arrivo 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 al record di vain allora 70 ok qui già abbiamo superato vain quindi quindi già 5 ticket in più mi è costato non ci posso pensare ragazzi un'altra bt ma non ho trovato la force ok quindi tecnicamente già siamo a 40 token no a 45 token siamo già a 45 token comunque kelgar ha battuto vain proprio un cane in tutto e per tutto cioè sto finendo i ticket incredibile ripeto solo con vain mi era successa questa cosa che mi ha fatto spendere 500 ticket solo con vain e kelgar me ne ha fatti spendere molti di più ma noi siamo praticamente a 600 ticket e passa ecco ti prego fa che sia lui perché veramente 20 minuti di pull ho fatto praticamente con molti più ticket di quelli che avrei dovuto spendere forse però ripeto ecco un pochettino di arroganza nel fatto che c'è la thumb oh grazie a dio è uscito ce l'abbiamo fatta con due bt addirittura trovate due bt e una sola force dopo più di 700 ticket no ero no 700 no perché ero a 865 sono a 200 e qualcosa vabbè 650 mettiamola così quindi record di vain assolutamente polverizzato oserei dire perché vain mi era costato 500 ticket lui molto di più anzi andiamo a vedere siamo a 240 quindi sì quindi sì assolutamente sì eh sono 600 sì 620 ticket mi è costato all'incirca 620 ticket quindi assolutamente polverizzato il il record di di vain assolutamente sì comunque io adesso lo vado a maxare lo vado lo vado a sistemare gli vado a mettere tutte le passive gli farm anche ovviamente le summon board perché purtroppo quelle le devo farmare io manualmente e detto ciò probabilmente stasera ci vediamo su twitch e poi boh vedremo vediamo 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 Grazie a tutti.